Buon pomeriggio dal Tg3 Liss. La tregua umanitaria in Medio Oriente resta ancora più che altro una speranza. C'è però qualche spiraglio. Hamas si è detta favorevole alla proposta del segretario di Stato americano, Kerry, cinque giorni di stop ai combattimenti, ma chiede garanzie. Per il momento però le armi non si fermano. Anche oggi attacchi su Gaza e lancio di missili verso Tel Aviv. Ed è ancora fortissima la tensione dopo le bombe e i tanti morti nella scuola dell'ONU dove si erano rifugiati gli sfollati. All'Italia l'Assemblea dei Soci ha approvato poco fa il bilancio e l'aumento di capitale attesi in vista dell'accordo con Etihad. Il referendum sui dipendenti sui tagli al costo del lavoro spacca però i sindacati. Non è valido, dice la Will, lo difendono invece gli altri. Il braccio di ferro sulle riforme. Dopo la tumultuosa giornata di ieri, con il contingentamento dei tempi in Senato e la protesta delle opposizioni al Quirinale, la tensione resta alta. Grillo attacca il Presidente della Repubblica e parla di colpo di Stato. Ma il Presidente del Consiglio ribadisce, io non mollo, le riforme le faremo. No alla dittatura della minoranza. Dopo i voti delle Camere, ricorda Renzi, ci sarà il referendum. L'opposizione ha paura degli italiani. E al colpo di Stato, evocato da Grillo, replica con una battuta, il tuo è un colpo di sole. Le riforme sono importanti, sottolinea il Presidente del Senato, Grasso, che difende le sue scelte sul voto segreto e rivendica l'imparzialità. Ora, dice, serve un confronto serio sui contenuti, senza però sprecare il tempo. L'ex magistrato ritiene doveroso agire anche sulla giustizia e la lotta alla corruzione. E' tutto per il telegiornale Nella lingua dei segni. Grazie per averci seguito. Ancora buon pomeriggio.